Dite la verità, quante volte vi è successo questo? E invece quello che volevate fare era questo. Probabilmente il vostro problema è che non avete settato bene la potenza della VTX oppure non l'avete sbloccata. Quindi oggi andiamo a vedere un pochettino come si fa. Allora, apriamo il nostro bel Betaflight e andiamo dentro la parte del trasmettitore video. Qui dentro abbiamo tutte le impostazioni e le caratteristiche della nostra VTX. Come prima cosa, con il drone connesso e la batteria inserita, dobbiamo essere sicuri che qui dove dice valori correnti, dove dice dispositivo pronto, ci sia scritto sì. Perché? Perché così siamo sicuri che c'è una connessione attiva e funzionante tra Betaflight e la VTX. Quindi lo smart audio sta funzionando. Allora, in questo momento lui mi dice che io sono sulla banda A al canale 1 a potenza 25 mW. Ok? Quindi tutto mi fa pensare, visto che qui dice anche dispositivo pronto, che se qui vado a cambiare e metto 200 mW, faccio salva e ora dovrei stare a 200 mW. No ragazzi, non funziona così. In questo momento, infatti, io sono sempre a 25 mW. Voi direte perché? Perché questa VTX, come il 90% delle VTX che arrivano in Europa, sono bloccate. Ok? Bloccate cosa vuol dire? Vuol dire che la potenza, anche se l'aumentate, e quindi ne so, fate 200 e salvate, resta sempre a 25. Ok? Anche se qui leggete 200 e all'interno dell'OSD, dello schermo del visore leggete 200, comunque state a 25. E soprattutto avete la banda E bloccata. Quindi se voi cercate di visualizzare la banda E, non funziona. Facciamo proprio questo test. Allora, in questo momento sono su banda A, canale 1, potenza 25. E come vedete, ho il mio bel segnale che si vede nel visore. Ok? Se ora cambio e metto canale, scusate, banda E, canale 1 e salvo, ovviamente salta la trasmissione. Voi direte, vabbè grazie, non hai messo il canale sul visore. Ok? Ora vado a mettere la banda e il canale giusto sul visore e come potete vedere, comunque non vedo perché questa VTX è bloccata. Ok? Quindi, questo è il primo test che dovete fare. Come si sbloccano le VTX? Le VTX purtroppo non ve lo posso dire come si sbloccano, perché non voglio. Perché ogni VTX si sblocca in maniera differente. Cioè quella EMAX ha una modalità, quella della TBS ce n'è un'altra. Quindi, per sbloccarle non dovete fare altro che leggere il manuale della vostra VTX o guardare qualche video su YouTube, comunque. E ci sarà sicuramente qualcuno che ha detto come si sblocca quella precisa VTX, quel marchio di VTX. Ok? Perché le TBS, per esempio, si sbloccono tutte quante nella stessa maniera. Quindi, fate questo test. Andate a vedere la banda E, canale 1. Settate banda E e canale 1 sul vostro visore. In alcuni visori si chiama banda 5, soprattutto quelli là molto economici. Comunque, banda E e canale 1. Se la riuscite a vedere, allora siete sbloccati. E in quel momento potete anche andare a cambiare la potenza e la potenza funzionerà. Ok? Vi do giusto giusto una piccola infarinatura delle VTX tables, ma questa cosa la tratteremo in un altro video perché è abbastanza lunga e complessa e poi il video diventa troppo lungo. Allora, qui siamo con uno Smart Audio 2.0. Ok? E questa VTX in particolare ha tre valori di potenza. Valore 0, valore 1 e valore 2. Ok? Valore 0, 25 mW, valore 1, 100, valore 2, 200. Ok? Ora, se io andassi a scrivere qui 500 e vado a salvare, non è che la mia VTX mi va a 500 mW. Questa qui è solo un'etichetta, come dice qui. Quindi qui ci potete pure scrivere ciao. Non cambia niente. Lo vedete pure visualizzato a video all'interno di Smart Audio. Ma sempre a 200 va. Quindi qui i valori vanno messi solamente per comodità vostra, per ricordarvi che quella VTX effettivamente quanto tira fuori. Quindi se voi dovete impostare una VTX table da 0, e poi vi farò vedere come si fa a seconda di varie cose, vanno impostati i valori dichiarati dalla casa madre di quella VTX. Quindi questa particolare VTX ha tre livelli di potenza, 25, 100 e 200. Io così ho impostato. Ma niente mi vietava di scrivere 200, 400 e 2000, per dirvi. È solamente una cosa visiva. In realtà non cambiava nulla. Ok? Ok, direi che grosso modo è tutto. Quindi se avete problemi di potenza della VTX, fate questo test. C'è anche da dire che alcuni VTX hanno i LED, quindi tramite quale LED è acceso, alcuni hanno dei LED accesi fissi, alcuni di colori, alcuni lampeggio. Insomma anche qui dipende ovviamente dalla VTX, ognuna c'è il suo modo. Potete andare a vedere se effettivamente avete selezionato il livello di potenza giusto. Però vi dico che se voi cercate banda E, canale 1, e lo riuscite a visualizzare nel visore, al 99.9% siete già sbloccati e potete settare il livello di potenza a livello di smart audio ed effettivamente quel livello di potenza funzionerà. Ok? Quindi se avete dei problemi a settare la potenza della vostra VTX, o meglio, pensate di averla settata, ma in realtà vi accorgete che non sta cambiando nulla, al 99% il problema sarà proprio questo. Ok? Quindi ragazzi, come sempre, vi dico che se vi è piaciuto il video e vi è stato utile, mi mettete un bel like, magari un commento pure, vi iscrivete al canale, attivate la campanellina, così siete sempre aggiornati sui miei video. E vi dico già, vi do un'anteprima, che sto programmando di fare una piccola playlist con tutti i vari trucchetti e cose comode di Betaflight che poche persone conoscono. Ok? Quindi restate sul canale. Alla prossima!